In censurità, come vanno le cose? Come va la testa? La testa va bene, io pensavo che il problema era quello, però invece ho dato una frustrata al collo, dove c'è un po' di dolore, un po' alla schiena. Siamo in attesa della risposta alla risonanza che ho fatto ieri, quindi domani vediamo come vanno le cose. È stata una caduta un po' particolare? Sì, è stata una caduta particolare, mi sono scontrato con Daniele, dove ho battuto prima la schiena e poi ho dato il contracolpo col collo. Però per fortuna, visto la caduta, è stata una bella caduta, però per fortuna non è niente di grave, quindi speriamo di recuperare in fretta. Per sabato? Speriamo, vediamo domani. Ci sono i presupposti? Sì, sì, sì. Vediamo domani come va, perché a fine oggi ancora non mi sono allenato, quindi vediamo domani, poi vediamo il misto deciderà. E ritornando alla prima di campionato, Aridità ha fatto benissimo, soprattutto quando il Padova con Zeduar dovrebbe potuto chiudere il confronto. Muro Aridità. Sì, 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 è stata importante, ma sono contento anche per tutti. Non era facile fare una partita e andare a giocare a Padova, dove a prima di B parecchi giocatori hanno esordito in Serie B. Io dico che abbiamo fatto una signora partita, abbiamo avuto il pallino del gioco, con personalità. Secondo me è mancato magari qualcosina negli ultimi metri, però è chiaro che è un punto guadagnato e quindi speriamo di proseguire su questa cosa.